allora buongiorno breve presentazione appunto sono stato presentato come un avvocato o un'anima un po particolare una formazione un po particolare perché ho il classico percorso d'avvocato ma comunque sempre con un occhio sul mondo del digitale già la mia prima quindi laurea in giurisprudenza era su copyright proprietà intellettuale open licenze open creative comm su queste cose qua in anni in cui di questi temi si parlava giusto all'inizio era proprio l'embrione di quella di quella teoria che adesso è diventata abbastanza abbastanza diffusa e conosciuta però io poi oltre a fare il classico percorso avvocatesco cioè praticantato l'esame di stato l'attività come professionista ho sempre tenuto un piede in accademia e ho fatto una seconda laurea in scienza della pubblica amministrazione che era propriamente chiamata governo e amministrazione locale quindi un tema che dovrebbe come dire essere vicino a quello che che fate voi per lavoro infatti i miei compagni di università all'epoca erano tanti tante come dire persone già incardinate nella pubblica amministrazione che volevano una laurea specialistica per per scatti di carriera e da quella laurea poi sono entrato a fare un dottorato di ricerca in società dell'informazione quindi anche lì un dottorato molto legato al digitale era parlo al passato perché appunto questo dottorato adesso se lo cercate non lo trovate più sul sito dell'università bicocca perché è stato accorpato ad una scuola di dottorato più ampia quindi quel nome si è perso però ecco era interessante perché era un focus quindi un percorso di dottorato focalizzato sulla digitalizzazione la rivoluzione digitale l'impatto sociale del digitale ed era tra l'altro un dottorato che prendeva un po da tutte le le facoltà quindi non era particolarmente settoriale era trasversale e io quindi ho avuto per osmosi o convissuto per questi tre anni con sociologi psicologi informatici puri filosofi pedagogisti esperti di scienze della formazione dell'educazione trattando tutti appunto con ognuno con il proprio approccio il tema del del digitale della percezione sociale dell'impatto sociale delle tecnologie io mi ero occupato infatti della percezione sociale del diritto d'autore nell'era digitale niente quindi oggi sono stato chiamato a fare una panoramica su diciamo i 4 5 temi chiave dal punto di vista giuridico per la trasformazione digitale preparato un percorso che è molto denso quindi d'accordo con gli organizzatori io le slide lascio così come le abbiamo predisposte ma cercherò alcune le salterò ve le farò solamente vedere e lascio alla vostra poi curiosità andare ad approfondire a leggerle più nel dettaglio quindi cercherò di evitare di mettermi a leggere la slide dettagliata e poi finiremo con un focus sugli open data che è un tema a me molto caro nel senso che appunto era già quello della mia tesi di laurea del 2003 all'epoca in realtà non si parlava di open data si parlava di open content più genericamente open data è un tema che è arrivato leggermente dopo però ecco cercherò di darvi qualche qualche background qualche base sulla parte giuridica diciamo degli open data perché so che poi nel vostro percorso di quel diciamo di questo percorso formativo avete degli incontri con esperti di open data che vi faranno invece vedere concretamente come si fa come si fanno gli open data come si rilasciano gli open data magari avere già conoscenza del background giuridico dell'aspetto giuridico non è male niente come dicevamo se volete poi fare qualche commento io ho diviso le slide già in piccole unità diciamo concettuali per cui sono io stesso che mi fermo a un certo punto e chiedo se avete qualcosa da dire però se volete poi intervenire come abbiamo già fatto in altri incontri sappiamo siamo un po elastici quindi mi fate qualche commento mi alzate la mano non so io non vi vedo fisicamente perché no esatto non vi vedo fisicamente perché vedrò le slide però vi sento ok allora condivido e iniziamo la nostra bella presentazione